e tu chi saresti? Un clown? Un fantasma? Qualcosa di semplice sembra di fare il surf altro che skate, se solo smettesse di piovere non può piovere per sempre esatto, non può piovere per sempre, bentornati amici di BetItaliaWeb citiamo il buon vecchio Brandon Lee nel corvo e finalmente dopo giorni difficili una bella prestazione nelle scommesse in free peak oggi è giovedì, è il giorno dei motori fino a ieri ero convinto che ci fosse la Formula 1 questo weekend, invece no, di solito inizio a guardarla al mercoledì pomeriggio, mercoledì sera, le prime notizie, le prime quote poi non mi arrivavano feed dai miei siti di riferimento non mi aveva detto niente il Panda e in effetti non c'è la Formula 1, c'è la Formula E a Roma, secondo appuntamento del mondiale Berz, Sam Berz e De Vries, come si dice, sono i favoriti si corre al circuito, al tracciato dell'Eur anche qui le Mercedes dominano quindi perché De Vries è pilota Mercedes quindi non cambia molto rispetto alla Formula 1 di cui torneremo a parlare giovedì prossimo col Gran Premio dell'Emilia-Romagna e torna anche la MotoGP a Portimau se non sbaglio oggi c'è l'Europa League di Calcio Ajax-Roma, è la partita che ci interessa maggiormente i giallorossi sono l'unica squadra italiana sopravvissuta a livello di Coppe Europee non tira una bella aria con Fonseca nello spogliatoio l'avversario non è semplice l'Ajax e la Roma si ritrova sfavorita dalle quote per la trasferta ad Amsterdam le possibilità però ci sono l'Ajax non vince da 10 partite casalinghe contro rivali italiani in competizione europea proprio da quando ha sconfitto la Roma nel dicembre del 2002 da allora 6 pareggie e 4 sconfitte per il calcio si continua a giocare anche oggi in Turchia poi ci sono la Bundesliga 2 e la Coppa di Francia tennis a Cagliari il secondo turno Cecchinato ha appena perso Musetti se la stava giocando alla pari con Evans erano un 7-1 dopo c'è Sonego che è favorito contro Simone si gioca anche a Marbella e ci sono i tornei femminili del VTA a Charleston e in Bogotà come sempre nel canale free di Darius su Telegram trovate tutte le giocate il link qui sotto tanto basket con l'Eurolega le prime 5 partite della 34esima giornata che continuerà poi domani in campo anche l'Olimpia Milano contro l'Efes domani oggi ci sono anche due partite di Champions League Nimburg contro Saragozza e Sassari-Bamberg alle 18.30 per chiudere la fase gironina del gruppo L che vede la formazione di Pozzecco-Fanalino di coda c'è anche San Pablo Burgos contro Tenerife che è un recupero della Liga ACB in Spagna OK KHL gara 4 tra Sky e Sesca con la squadra di Mosca che continua a dominare 3-0 nella serie e oggi può chiudere i conti con uno sweep già qui a San Pietroburgo si gioca alle 18.30 Volley Italia Serie 1 maschile di Superlega Piacenza-Milano e Vivo Valencia-Modena alle ore 18 e poi c'è anche Ravenna-Cisterna alle 19 sono tre incontri per la fase di Superlega che definirà la classifica dal quinto al dodicesimo posto intanto ieri la Lube ha schiacciato Trento 3-7-0 ancora e è passata in finale se non sbaglio oggi come vedete anche qui in sovrimpressione c'è il Master abbiamo già dato tutte le nostre giocate in free peak ieri e non perdetelo risultati come dicevamo finalmente una giornata positiva dopo alcuni giorni negativi unico errore il cippino microscopico sulla X a Monaco un X che quasi entra ci credevamo nel PSG il PSG ha fatto pure troppo visto che alla fine è andata a vincere 3-2 ci può stare le giocate principali erano importanti ed entrano tutte la doppia di Serie A che era un bel raddoppio abbondante con la vittoria dell'Inter di misura contro il Sassuolo che almeno vedendo le statistiche io non ho visto la partita ha comunque giocato meglio e poi il gol-gol tra Juve e Napoli la Juve vince qui finalmente ne abbiamo sculata una noi al novantesimo con un rigore di insignia c'era anche la combo tra Porto e Chelsea che va proprio come immaginato 2-0 per i Blues era un X2 più Under 2,5 e poi c'è la vittoria del Casani in KHL che non poteva andare sotto 3-0 nella serie contro l'Omsk ed è andata a vincere in trasferta dopo aver perso le prime due in casa anche qui la quota era interessante appena poco sotto la pari oggi non riesco a parlare Sportamericani ieri ho dato due free pick nel Telegram di Betting Maniac le ho prese in tarambe in NHL abbiamo preso la vittoria dei Kings grazie ad un grande ultimo periodo e anche la quota a 1,95 era bella golosa nel VIP tra l'altro in hockey NHL avevo dato anche l'Under 6 a Toronto dove ci sono stati solo 5 gol solido il backup dei Canadiens Allen non c'era Carey Price ma Allen è un lusso averlo come backup parliamoci chiaro mi ha ben ripagato e poi c'era Campbell in porta per i Maple Leaf sinceramente sta tenendo numeri assurdi sta giocando al posto dell'infortunato Frederick Anderson ma sta giocando quasi meglio del titolare in MLB avevo invece dato come free pick l'Under nei primi 5 inning tra Cleveland e Kansas City c'era Bibi e Ralvia un classico l'Under in F5 con questo pitcher starter lo avevo già accennato anche qui nel podcast di ieri alla fine l'ho giocato ed è arrivato il tredicesimo Under F5 nelle ultime 14 partite di Bibier davvero una sentenza di Under nei primi 5 inning nel VIP di Betting Maniac ho giocato live anche il meno 1,5 di Cincinnati che ha dominato nuovamente contro Pittsburgh erano 11-0 all'ultimo inning quando hanno concesso 4 run proprio per non distruggere tutti i Pirates che si confermano una squadraccia quest'anno è peccato che salta la seconda doppia di fila con una quota superiore a 2,50 e salta ancora una volta in extra inning dopo Tampa che ci ha fregato l'altro giorno perdendo contro Boston al dodicesimo inning ieri avevo dato Philadelphia vincente e i Phillies si sono riscattati contro i Mets ma anche Dodgers vincenti i Dodgers che hanno perso al decimo inning facendosi recuperare anche loro da Oakland gli Athletics finora avevano sempre perso sono riusciti a fare 4 run mettendo insieme solo 5 valide quindi i problemi dell'attacco di Oakland persistono però ieri ci ha detto male un po' di sfiga con queste due doppie ultimamente tra l'altro Oakland la sto odiando in questo inizio gli ho giocato due volte a favore in Moneyline le ho perse tutte e due quando gli gioco contro vincono come mi muovo sugli Athletics la perdo quindi lasciamoli un po' stare in NBA ieri avevo consigliato il più 2,5 di Phoenix in casa nel big match alla fine vinto dai Suns contro Utah le due migliori squadre a Est e due delle migliori squadre anche come rendimento nelle scommesse Suns che hanno vinto in overtime oggi altre 7 partite proprio Utah e Phoenix sono ancora protagonisti in back to back i Suns giocano in casa dei Clippers altro bel big match i Jets tornano nello Utah e ospitano i Blazers il big match però a mio avviso è Dallas contro Milwaukee che si gioca un po' prima nella notte anche Dallas in back to back ieri ha perso malamente contro Houston oggi arriva Milwaukee i Bucks però hanno sempre Giannino in forse per la NHL ben 10 partite almeno 5 o 6 di queste sono big match molto interessanti quindi giornata a cui fare molta attenzione in NHL rinviata però Calgary contro Vancouver in MLB iniziano le nuove serie ci sono 9 partite in programma Oakland maledetta si è sbloccata come abbiamo detto e va a giocare a Houston free pick per oggi ne abbiamo preparate 3 una di Eurolega con D'Artagnan un raddoppio anche oggi a 2 di quota stake standard stake 1 andiamo sull'X2 del Villareal impegnata a Zagabria e sulla vittoria dello United impegnata a Granada allora la Dinamo ha eliminato a sorpresa il Tottenham lo scorso turno ma non crediamo che il Villareal perderà questa trasferta perché? perché i padroni di casa hanno in dubbio Gavranovic e anche Petkovic dovrebbe essere indisponibile o comunque non al meglio e sarebbero due assenze molto pesanti per l'attacco della Dinamo il sottomarino giallo potrà approfittarne e portare a casa magari almeno un pareggino ci basterebbe aggiungiamo la vittoria esterna di un'altra squadra favorita lo United che sfida un Granada con molti giocatori indisponibili in dubbio anche lei infatti gli spagnoli sono calati tre sconfitte di fila tra campionato e coppe mentre al contrario lo United ha vinto tre delle ultime quattro lo scorso turno ha eliminato anche il Milan lo sappiamo bene quindi andiamo con questo raddoppio di Eurolega ci spostiamo in Euroleague di basket con Insider che ci dà due giocate anche qui due squadre in trasferta oggi veramente il fattore campo speriamo che non ripaghi nessun campo appunto scusate il gioco di parole Zalgiris contro Panathinaikos vittoria del Panathinaikos a 1,76 i greci hanno un'occasione visto che dopo tre sconfitte si sono ripresi con la vittoria nell'ultimo turno di Eurolega contro Milano potranno vincere la seconda di fila e sperare ancora nella top 8 contro uno Zalgiris che ha perso quattro delle ultime cinque partite e gioca senza Eims Rubit e Mila Anknis c'è anche Lovergno in dubbio l'ultima giocata che diamo per oggi sempre stake standard sempre Eurolega con Insider la vittoria del Real Madrid sul campo del Fenerbahce a 1,73 anche qui andiamo sulla scuola in trasferta che ha bisogno di una vittoria nella corsa alla top 8 e che ha sempre battuto il Fenerbahce negli ultimi cinque precedenti speriamo quindi arriva la sesta vittoria dei Blancos che hanno vinto 94 a 74 all'andata a Madrid hanno dominato largamente per i turchi ci sono assenze importanti quella di Veseli e c'è anche De Collo che non è al meglio e potrebbe non giocare o essere un po' limitato rispetto al solito ok siamo arrivati alla fine io vi do appuntamento domani con l'ultima puntata della settimana come sempre tutta incentrata sul calcio con lo studio di D'Artagnan su Serie A Premier League Liga Ligane Bundesliga a coprire tutte le scommesse del venerdì e del fine settimana per il resto in particolare per gli sport americani continuate a seguire Betting Maniac io vi ringrazio dell'attenzione vi auguro una buona giornata fate buone scommesse e puntate sempre con la testa ciao ciao